Perfetto, siamo in diretta. Siamo in piazza Divagno e quello che vedete è un rosario in dimensioni giganti, fatto di palloncini e una corona per omaggiare la Madonna della misericordia. Si capisce che è un rosario, sì? Ecco, lei è una delle organizzatrici. Come mai questo rosario oggi? Per onorare la Madonna della misericordia. E' la prima volta che si realizza a Lucera una cosa del genere? Il rosario sì. Ecco, praticamente le decine sono i palloni gialli, mentre invece al termine della decina ci sono i palloncini azzurri, quelli che corrispondono al momento in cui si dice il Padre Nostro. Noi intanto stiamo girando, mi stanno facendo girare. E poi al termine abbiamo la croce. Non so se si vede. Come vediamo la croce. Come vediamo la croce. Come vediamo la croce. Come vediamo la croce. Io non lo vado. Ci siamo quasi? Quello che vedete è sempre il rosario realizzato con pallencini che poi dovranno prendere il volo. Intanto sta terminando la preghiera. E ci vediamo tra un po' per assistere a questo spettacolo meraviglioso del volo della corona in onore della Madonna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questa è la corona del rosario che raggiunge la Madonna. Continua a salire. Perfetto. Noi adesso rientriamo a cena alla Madonna. Ancora si vede, ancora si vede, ancora si vede, adesso è proprio sotto la Madonna.